Ciao a tutti, l'opera di cui parlo oggi è il Nudo femminile di schiena realizzato nel 1732 dal pittore francese Pierre Soubleras ed esposto nella sezione ricerche sul vero sul naturale della mostra sfida al barocco, una sezione che mette insieme diversi approcci alla ricerca pittorica sul naturale condotti in contemporanea tra Roma e Parigi. È proprio Roma che Soubleras si trova quando licenzia l'opera, una città che aveva raggiunto come pensioner dell'Accademia di Pittura e di Scultura di Parigi, dopo che nel 1727 aveva vinto il primo premio in pittura. A Roma Soubleras decide di stabilirsi anche una volta trascorsi tre anni canonici. A differenza dei suoi colleghi, che trascorso questo periodo tornavano in patria per continuare il percorso nei ranghi dell'Accademia o prende un'attività improprio, Soubleras decide di mettere in atto a Roma un'astuta strategia di autopromozione, volta ad ottenere importanti commissioni. In questo obiettivo Soubleras riesce e si afferma nel panorama romano e in quello italiano come pittore abile in generi pittorici differenti, che vanno da ritratto ufficiale a scene di storia sacra. In sé dentro che fuori l'ambito accademico, Soubleras dà prova di opere di un nuovo naturalismo, come appunto vediamo nel nudo in mostra proveniente dalle collezioni di Palazzo Barberini a Roma. Il pittore coglie questo anonimo nudo femminile di spalle mentre disteso su un bianco materasso, in una pose estremamente libera e naturale. Si tratta di uno studio accademico del modello umano, del modello vivente, a cui Soubleras conferisce una nuova intensità e un naturalismo sconcertante per l'epoca. Bisogna infatti ricordare che ci troviamo nella Roma papale e i ritratti dei nudi femminili erano stati ufficialmente proibiti. Ma Soubleras, sfidando queste regole e sposando lo spirito accademico imposto dall'allora direttore Nicolas Vlogel, secondo il quale lo studio del naturale doveva essere una delle pratiche principi per i giovani pensioner, ci consegna una pittura fatta di vibranti pennellate. Non viene meno in questo dipinto anche un altro riferimento accademico importante per il tempo, quello alla statuaria antica. Soubleras infatti si rifà al modello dell'ermafrodito borghese, oggi a Louvre, combinandolo quindi insieme al naturale, un po' come in contemporanea stava facendo anche me Bouchardon. Come sarà per Bouchardon, infatti, l'esercizio potente dal vivo e la riflessione sull'antico indagato nella sua radice naturale erano pratiche necessarie per appropriarsi del talento dei maestri antichi e di quelli moderni e per ritrovarlo quindi nella natura.